Campionato europeo UEFA Under 21, il pallone esce dagli stadi e invade piazze e teatri con la regione scende in campo. A Ravenna il 16 giugno ci saranno eventi in piazza Kennedy dalle ore 10 alle 23 e il 19 giugno all'antico porto di classe con grandi storie e grandi protagonisti. Stiamo avendo un momento molto positivo per quello che riguarda il calcio. A partire da stasera ci saranno le finali del settore giovanile, il finale scudetto della Federazione Italiana Gioco Calcio che vede per il secondo anno consecutivo la nostra città protagonista con gli Under 15, Under 16, Under 17, Serie A, Serie B, Lega Pro e Femminile. Quest'anno siamo tra l'altro capofila grazie all'ottima collaborazione che ormai si è staurata tra noi e la Federazione Italiana Gioco Calcio. Contemporaneamente grazie alla regione che ha voluto estendere anche le città che non ospitano partite dell'Europeo Under 21 che quest'anno è uno degli eventi più importanti calcisticamente parlando di uno sport che chiaramente è il più popolare in Italia e che si disputerà in Italia con alcuni partiti importanti tra cui quella inaugurale Italia-Spagna nel nostro territorio. A Bologna, allo stadio dell'Ardia di Bologna, la regione ha deciso di fare alcuni eventi collaterali da espandere anche nelle città che non ospitavano partite. Per cui in occasione, il 16, domenica, in occasione della partita inaugurale Italia-Spagna verrà allestito un villaggio in Piazza Kennedy, ci saranno importanti ospiti tra cui Raldo Pecci e Arrigo Sacchi, due romagnoli veraci, contemporaneamente verrà allestito uno schermo per seguire in diretta la partita e il giorno 19 giugno un importante evento teatrale che si svolgerà a Ravenna grazie alla collaborazione con le Albe e Fondazione Ravenna Antica all'antico porto di classe, un luogo bellissimo e suggestivo per poter ospitare questo evento. Era un evento al quale stavamo già lavorando noi come amministrazione insieme all'assessorato alla cultura e insieme alle Albe che è quella della rappresentazione teatrale portata avanti da Gian Felice Facchetti, figlio del grande Giacinto Facchetti, ex capitano della grande Inter e ex presidente dell'Inter scomparso nell'agosto del 2007, che rappresenta lo scudetto dimenticato, lo scudetto dei Vigi del Fuoco che si è svolto durante la guerra mondiale. Nella stessa serata, in un evento al quale stavamo già lavorando, presenteremo il libro 110 Inter, diciamo così grazie alla campagna abbonamenti che l'Inter, l'FC internazionale, la squadra milanese aveva fatto nella scorsa stagione per il campionato 2018-2019, legandola un po' alla Divina Commedia a rivedere le stelle, era lo slogan dell'Inter che appunto rientrava in Champions League con un bellissimo video dove un padre portava un figlio fuori dal tunnel di San Siro a vedere le stelle e l'abbiamo collegato chiaramente al nostro legame con Dante, agli eventi che stiamo portando avanti per Dante Alighieri, grazie con Marco Martinelli che sarà presente quella serata alla presentazione del libro insieme a un altro Romagnolo e Doc, Alberto Zaccheroni, tifosissimo nero azzurro, ex natore dell'Inter al quale va perdonato, lo dico da tifoso interista, lo scudetto vinto con i cugini del Milan ma insomma nessuno nella vita è perfetto, ma un altro evento e altri eventi che arricchiscono il nostro territorio che coniugano la cultura allo sport perché come dice il grande Jose Muregno chi sa solo di calcio non sa niente di calcio E invece per quanto riguarda 5 campioni del mondo e 3 commissari tecnici? Beh sì, la nostra è una terra che si può dire ha dato tanto tanto allo sport e sta dando ancora tanto allo sport in generale per quello che riguarda il calcio abbiamo sicuramente delle eccellenze perché abbiamo 5 campioni del mondo da Angelo Schiavo, a Biavati, a Filippinzaghi, Luca Toni, Zaccardo 3 commissari tecnici, Fabri, il Ravennati, a Rigosacchi e a Zeglio Vicini quindi insomma tutte eccellenze ma sono 65 in totale chiaramente i titolari che hanno giocato in Nazionale A quindi è veramente un importante contributo che la nostra regione ha dato alla Nazionale Italiana di Calcio